Ciao a tutti e benvenuti su Bimbi Creativi. Andiamo avanti col libro dei lavoretti creativi di Carnevale e vediamo la scheda numero 5. Prima però vi ricordo che sul Carnevale, oltre a questo libro che trovate in vendita su Amazon, scrivendo nella lentina di ricerca Irene Marzi Carnevale, è uscito anche il nuovissimo libro interattivo I colori di maschera. Una simpaticissima storia interattiva dove i bambini devono rispondere alle domande che vengono fatte e possono usare il libro come strumento di gioco. Trovate anche questo in vendita su Amazon, scrivendo Irene Marzi Maschera nella lentina di ricerca. Torniamo al libro dei lavoretti creativi. Oggi vi faccio vedere la scheda numero 5. La scheda numero 5, che ce l'ho già tagliata e colorata, permette di creare un biglietto con pagliaccio. La scheda ovviamente l'ho già colorata io, per questioni organizzative e di tempo, ed è semplicissima da utilizzare. In questo modo vado, una volta colorata dei colori che preferisco, vado a ritagliarla e poi la piego e la posso utilizzare tranquillamente come biglietto per qualunque cosa. Quindi può essere un biglietto ad esempio per l'invito ad una festa di carnevale, oppure per un compleanno che si tiene in questo periodo, quindi nel mese magari di febbraio. Potete usarlo un po' come volete. Oppure potete semplicemente ritagliare l'immagine e usarla per fare dei lavoretti. Intanto sposto questo. Allora, come si usa? semplicissimo. Si prende, si piega dove c'è la linea tratteggiata e voilà, ecco pronto il nostro biglietto con clown. Vedete com'è carino, semplicissimo da realizzare e è la scheda numero 5 del libro dei lavoretti creativi di carnevale che vi ricordo contiene 25 in schede in bianco e nero da colorare, ritagliare e incollare per fare lavoretti con i bambini. Quindi vi ricordo questo libro e vi ricordo il libro I colori di maschera. Per oggi è tutto, vi saluto, vi ringrazio e vi aspetto con la prossima idea creativa. Ciao a tutti!